Viaggi solidali, cosa sono? Scopri un nuovo modo di viaggiare. Parti per un viaggio solidale e oltre a girare il mondo, porterai il tuo aiuto dove serve. Progetti Human con adulti e bambini. Progetti Wildlife per la protezione degli animali. Progetti Eco per la salvaguardia dei paradisi naturali. Progetti Construction per lasciare un segno tangibile del tuo impegno. Progetti Sea Life a contatto con la fauna marina. E ancora, progetti Farm in fattoria e progetti Range. Range. Sono centinaia le proposte che ti aspettano in tutto il mondo. In base ai tuoi desideri e aspettative, troveremo insieme l'esperienza che fa per te. Viaggi solidali, per chi? I nostri progetti sono aperti a tutti, dai 15 anni in su. Per partecipare non sono richieste qualifiche o competenze particolari. Sono la motivazione e la tua voglia di investire che contano. L'esperienza di un viaggio solidale potrebbe metterti a confronto con situazioni impegnative, in zone isolate e con pochi comfort. Dovrai essere pronto a metterti in gioco al 100% nel progetto che sceglierai. Dove andare e per quanto tempo? Lavorare alla salvaguardia dei leoni in Africa, affiancare un insegnante in una scuola del Guatemala, o ancora proteggere la natura in Nuova Zelanda. Troverai di sicuro l'esperienza che ti farà innamorare. Puoi partire per un periodo da due settimane a diversi mesi. Tutto dipende dai tuoi obiettivi e dal tempo e budget che hai a disposizione. Vuoi partire per un lungo periodo? Puoi combinare diversi progetti in più paesi per realizzare un vero e proprio giro del mondo inedito e responsabile. Come fare per partire? Sei tentato dall'avventura? Scopri tutti i progetti e le destinazioni sul nostro sito. Il tuo viaggio solidale comincia su web.it